Ringrazio Vincenza Bagnale per avermi passato il testimone, ovviamente aderisco anch'io a questa iniziativa Io Adotto un Campione, aiutate anche voi a sostenere questa campagna di raccolta fondi andando sul sito ioadottouncampione.it in modo da poter dare la possibilità a Special Olympics di poter coprire le spese di trasferta degli atleti che rappresenteranno l'Italia e giochi mondiali che si terranno a Los Angeles. Passo al testimone a quattro campioni, Andrea Baldini, Marta Menegatti, Rossella Fiammingo e Gigi Mastrangelo.